Sanità messa in ginocchio dei tagli, ma non solo. Un dato che attraversa l'intero stivale e le regioni italiane chiedono al governo un nuovo patto per la salute. I recenti report sul settore concordano sul declino dei servizi offerti ai cittadini. La politica di rigore si traduce sempre più in una contrazione dell'offerta sanitaria. E' quanto emerge anche dalla ricerca condotta dalla Fiaso, la Federazione Italiana di Asle e Ospedali. Il presidente Monchiero oggi ha parlato di tagli inapplicabili e ha fornito alcune cifre. Su un campione del 20% di strutture sanitarie risulta che spending review e legge di stabilità hanno comportato nel 95% dei casi una riduzione di servizi e prestazioni rese ai cittadini. L'elenco dei tagli è impressionante. Personale, farmaci, protesi, ma anche lavanderia immensa. Nessuna voce del bilancio è risparmiata. In alcuni ospedali, rivela la ricerca a Fiaso, si taglia persino su acqua e latte per i pazienti. E ciò vale tanto per il sud quanto per regioni da sempre considerate virtuose nella gestione economica della sanità come Toscana e Lombardia. Gli scricchiolii del sistema iniziano ad assumere l'aspetto della frana e la conferenza delle regioni chiede al governo un nuovo patto per la salute per il prossimo triennio. Nel corso dei lavori di oggi è stata modificata la bozza di revisione degli standard sanitari, in particolare in merito al ricalcolo dei posti letto per mille abitanti e contestualmente è stata ribadita la necessità dello sblocco degli investimenti previsti. In sintesi bisogna pur porre un argine al tracollo delle garanzie del diritto alla salute che i tagli generano, ma senza perdere d'occhio le disfunzioni che in alcuni casi hanno fatto impennare in maniera impropria la spesa. Come nel caso del Cosentino, dove nelle ultime ore il Ministero dell'Interno ha disposto un accesso antimafia all'Asp di Cosenza. A quanto emerge nel mirino degli inquirenti ci sarebbero gli attuali Spock di Paola e Cetraro. In particolare riferimento agli annelli si indagherebbe su 20 assunzioni legate alle cosche cetraresi e su commesse di lavori pilotate avvenute negli anni passati.